Oggi, cara mia, andremo a scoprire la vera storia di Momo. Sei pronta? Eh, offere, qua a tutti se lo stanno chiedendo. Perché, Steph? Tutti sentono mia e sta cavolo di Momo, vedono la sua brutta faccia e fanno Ma chi cavolo è? Da dove arriva? Chi cavolo è di nuovo? E quindi, noi siamo qui su Minecraft per scoprirlo. Per di più, da quello che so, ci sarà... sarà divertente. No, sai, io non so niente. Appunto, leggiamo i vari capelli. Ma perché stiamo facendo solo video horror, poi, Steph? Ma che ne so fare questo periodo, ne sbuca uno dopo l'altro, prima c'è da granni, e poi arriva Tobaldi, e poi arriva Momo, poi fra un po' fanno il gioco con tutti e tre insieme, ed è la fine, fanno il FNAF con tutti e tre. Bello. Bello? Dai, andiamo. Questo è l'assistente segreto 2. Cercate bene nella casa, c'è il cibo e anche due sorpresine, una per Steph e una per Fere. Vai, scopritelo. Perché, ragazzi, infatti lo introduco al volo, al volo, al volo, da ora in poi ci saranno degli indizi nelle mappe create dall'assistente segreto numero 2 e per scoprire il suo nome. Quindi, mi raccomando, state attenti. Interessante questa cosa. Allora, io da quello che so... Fare in pazzine tutti, Steph. Io da quello che so, Fere mia, ci siamo appena trasferiti, e questa è la nostra nuova casetta. Infestata dai fantasmi, dagli spiriti, dalle persone maligne, Steph. Non c'è nessun fantasma, ok? Momo è un essere umano normalissimo, al massimo, ok? Non è proprio umano, Steph, però... Secondo me sì. Secondo me no. Allora, questa è la nostra nuova casetta. Abbiamo la cucina, tavolo, insomma, tutto molto bellino. Scrivanie per registrare. Che poi questa è la nostra postazione perfetta, perché tu hai il portatile lì nella tua scrivania, quindi è bellissima. Se fosse al centro il mio portatile sarebbe esattamente precisa. Ma perché ogni volta che insieme a un video sta piovendo, Fere? Perché è un segno del destino, Steph. Ma io lavorerei nella vita reale la pioggia di questi giorni. Io te l'ho detto, Steph, che questa è una casa un po' strana. La pioggia te lo dimostra. Ma tu me la togli? Dai, magari è un cattivo spiccio. Più che altro. Ah, ok, qua c'è il bagno, perché sta porta era già un po' sospetta. Secondo me faceva un po' di atmosfera la pioggia. Ok, che c'è? Ho trovato una mela d'oro. Ok. Ho trovato una mela d'oro. Qua c'è il bagno, giusto? Sì. Ok. Ho trovato anche il cibo, ovviamente in cucina. Vai a prendertelo, ci sono un sacco di belle bistecchine. Dove, 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 dove? Nel frigo di fronte non c'è nulla, te la devi trovare, Fere. Ti devi impegnare a trovare le cose. Ah, eccolo. Ok. Ok. Quindi così almeno abbiamo il cibo, una mela d'oro. Spero che non ci serva, aggiungo pure. Non penso che me ne serva troppissimo, mi prendo due stacche, ho proprio esagerato. Ok, è perché ti ricordi che nei cartelli diceva che ci sono due sorpresine, il cibo l'abbiamo trovato, però mancano le nostre due sorprese. E quindi lo voglio cercare. È il mio pc, magari? Fere. Una mia scrivania, no? Fere, 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 fere. Perché non abbiamo il tetto, Steph? Non lo so. Cioè ci stava entrando acqua in casa e non ce ne siamo neanche. Probabilmente non abbiamo molti soldi. Il discorso è, che cavolo è? Cioè, perché abbiamo questa roba sopra la nostra casa? Allora, è chiaramente una specie di mansarda, soffitta. Sì, una soffitta. Questo qua è chiaramente... È piena di mobili, che non sono nostri, Steph, questi mobili. Quindi chi ce li ha portati? Ma chi è che ce li avrebbe, scusami, con i tanti mobili in casa? È ovvio che non sono nostri. Il discorso è che sembra quasi un labirinto. Sì. Steph, allora... Dimmi, cara. Guardami in faccia. Sì, adesso giro un angolo e mi trovo qualcosa di spaventoso. Non continuo, te lo dico, eh. Perché basta, ok? Io credo che... No, no. Se giro un angolo e mi vedo momo, perché io te l'ho detto che questa è una casa maledetta. Porca miseria, Steph, ma sto facendo sotto. Sto stami dietro, seguimi. No, ma sto facendo sotto. Con calma. E non succederà nulla di brutto. Ok? Dai, mi sto merendo un'ansia assurda. Ok, la strada giusta sembra questa. Ecco qua. Vabbè. Sinceramente, finché è di spalle, non è molto brutta. Ah, è di spalle. Pensavo a avessi i capelli in faccia. Momo. Ciao, Momo. Che ci fai nella nostra sabita? Ho paura. No, cavolo, ho paura. Non voglio vederla alla faccia. Vado? Vai. Eh, che cavolo! C'è da dire che la schiena è perfetta. Sarà... Dove stai, Momo? Sarà una bella giornata. Comunque, Momo... Lo sai che tutti stanno parlando di te adesso, lo sai? Infatti, Momo ci vuole parlare e chiarire la sua storia. Oddio, Momo. Oh, cavolo, Momo. Però... Io ho capito che volevi chiarire la tua storia, però qui sei un po' troppo... loquace. Che noia, Steph. Ma dobbiamo leggere tutto? Vado? Lo so che vedendo mi aspetto. Non ci crederete mai, ma tanto tempo fa io ero una famosa principessa che tutti gli uomini del regno desideravano. Ero considerata la fanciulla più bella del regno. Ok. Non è vera mai questa storia. Nah, nah. Sta mentendo, secondo me. Un giorno, però, il principe di un altro regno venne a farci visita insieme al suo fedele mago e mi chiese di sposarlo. Io rifiutai perché capì fin da subito che il suo unico obiettivo era quello di prendere il possesso del mio regno, ma per educazione l'invitai comunque al banchetto che si sarebbe tenuto con la... Ascolta. Sto finendo. No, 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 ferma. Voglio teorizzare. Non esiste nessun principe, per quello lei l'ho rifiutato, perché in realtà non ci ho mai stato, è sempre stata brutta, e finirà così la storia. Durante la serata inizia ad avere delle strane sensazioni al viso, mi allontanai dalla festa e con il riflesso del lago del nostro giardino mi resi conto che il mio viso non era più lo stesso, ero diventato un mostro, da allora vago nel mondo e vivo in vecchie case abbandonate. Ok. Ma io neanche la credo, Steph, quindi possiamo aiutarti in qualche modo, non so, cioè, io me ne andrei, farei, capito, Quanto meno non attacca. Infatti non credo se siamo mai sentiti a parlare di attacchi di Momo, quindi... No, so solo che ti manda messaggi strani su WhatsApp. Beh, esatto, insomma, non è nulla di che. Non saprei, sono praticamente certa che durante quella serata il suo fedele mago mi ha lanciato qualche strano incantesimo, ma non ho nessuna prova. Se siete abbastanza forti e coraggiosi, potreste provare ad intrufolarvi nel suo laboratorio. Da quello che sono, non dista molto da qui. Siamo un po' spaventati, ma ci proveremo. Grazie mille di essere trovata la mappa per il laboratorio con qualche armadio o nei dintorni. Va bene, lo troveremo. Cioè, aspetta, io devo aprire tutti gli armadi e troverai la tua cavolo di mappa, Momo! Non me la potevi dare! Fari, ma se il mago ci fa un incantesimo e tu diventi brutta, quanto Momo? Vado anche io a spaventare la gente, dai, almeno mi diverto. Ok, ok. Ma dov'è? Allora, sembra che i comodini non li possiamo aprire. No, esatto, sono gli armadi grandi. Quindi dobbiamo guardare soltanto i vari armadi. Ok, ok, prima o poi. Sì? Era qua. Ti. Grazie, anche perché sai che non ti stai rientrare. Esatto, quindi vai, fai strada. Questa, se vedi. Aspetta, io la vedo da te, dovrei vederla. Ma guarda il mio schermo, assistente segreto 2, ok, e io voglio far notare ai consolini che sopra la stradina con freccia rossa c'è una scritta, vi informo che quello è il nome del nostro assistente segreto numero 2. Però è una scritta mezzo criptata, cioè dovrebbero essere molto bravi a capire il suo vero nome. Nei commenti provate a rinnovinare. Sparate, tutto quello che viene in mente. Noi nominiremo se azzeccherete. L'unica cosa che potete sapere è che ogni giorno o più o meno, insomma in tutti i video che lui preparerà, ci saranno nuovi indizi. Quindi piano piano i vostri nomi che avete provato a sparare potrebbero essere giusti e quindi potreste scoprire il suo vero nome. Ovviamente raga, nickname non è un nome reale tipo Gianluca, ok? E non si chiama Gianluca poi quindi... Esatto, quindi dico nickname. Come Steph FR. Ma non è che il regalo per Steph FR sono qua, è qui dentro. Vero? È perché poi noi... Uh, una mela d'oro. Eh, esatto. Bello. Ok, probabilmente era quello. Credo. Non lo so, noi andiamo. Vabbè, la mappa non era molto chiara, c'era una freccia e basta, quindi non penso che disti troppo questo laboratorio. Ok Momo, le cose brutte, ma in giro di notte? No. Andiamo a dormire, vieni, c'è il letto. Dov'è? Dov'era? Qua, andiamo a dormire. Perfetto. Eh che cavolo, c'è scusami. Bellissimo, bellissimo. che stiamo facendo la storia di Momo, ma io di notte non ci vado in giro. No, assolutamente no, ed eccoci qua col giorno. Quindi comunque la sua storia è che è stata resa brutta da un mago perché volevano prendere il possesso del suo regno. Ma io non ci crederò mai, Stef, secondo me è bucciata. Io non so perché non ci dovessi credere alle cose, francamente. Eh, secondo me... Perché secondo me... Perché dovrebbe mentire? Perché è cattiva. Bah. Tutti, tutti quelli, quegli spiriti maligni sono cattivi, Stef. Allora. Allora, penso sia quella roba enorme. No, sto guardando la mappa. Stef, si vede lì? È sicuramente lì, Fere. Ok. È sicuramente lì. Non ho male che ci sei tu, guarda, meno male. Grazie, cara. Allora, non mi piace questo posto. No, neanche a me, è un po' abnorme. Mi aspettavo un laboratorio piccolo. Esatto, uno di quei composti le catapecchie in legno con un po' di ragnette lì in giro. Invece sembra un po' staccio questo. Questa, Stef, è gente attrezzata, con quindi cose strane, preparati ad avere il sorriso tipo quello di Momo, Fere. Sì. Preparati. Allora, ok, ma lì c'è di nuovo Momo imprigionata? Ok. Equipaggiamento Stef il Magnifico. Perché abbiamo un equipaggiamento, Stef? Che sta succedendo qua? Altro cibo? Beh, io farei uno più uno, cara mia. A sto punto io farei uno più uno. Uno più uno uguale morte, ecco, qual è l'uno più uno mio. Allora, me le do, tante me le d'oro, cibo, spade, qui non sta andando bene. Stef. Allora, chiaramente il laboratorio. Sedia e rotelle, pozioni, tavoli, oddio, bisturi. Stef, ma perché ci sono tutte queste sedie e rotelle in fila con un telescopio? C'è abbastanza inquietante sta roba. Ma la dici? Pensavo fosse un posto allegro, cara, pensavo fosse... E tu sei seduta in una? La stavo provando. Ah, beh, Non si sa mai magari... Aspetta, qua c'è Momo. E qua chiaramente c'è una pressure plate. E una trappola dobbiamo premere. Ok, ok, calmati, calma. Stef, fa malissimo, fa malissimo. Bene, e mi sta facendo nausea. Porca miseria, Stef, adesso sono tornata a casa nostra. Devo correre per salvarti. Io te l'avevo detto che questa qua era una bugiarda, Stef, e tu che ci credi pure alle storie che si inventano questi qua. non vedo più. Te l'avevo detto. Era tutto un suo pieno per ucciderci. È finito l'effetto, è finito l'effetto. È tutto un suo pieno, secondo me. Vieni qua, vieni qua, Momo. Sono pronta alla battaglia, anzi, aspetto a fare, faccio finta di essere pronto, ma che brutta che sei. Allora, mi mangio. Io ci avevo anche creduto che ero una brava fanciulla e che non ci potevi fare nulla. Mi mangio la mela che ho trovato nella soffitta, che secondo me è esatto, è incientata, quindi ha più potere. Vado. Aia. Fa malissimo, Stef. Ok, non vedo già più nulla io. Assassina. Ti do una mano. Ma morirà mai? Cioè, è troppo forte. È troppo forte, Stef. Cerco di arrivare anche se non vedo più. Cioè, non vedo più nulla, non vedo più nulla e mi sta uccidendo, Stef. Cerco di mangiare, cerco di mangiare. Non posso. Me l'adoro, me l'adoro, me l'adoro. Mi sa che ti abbandono, Fere. Cavolo, Stef, non vedo più niente. Mi sto facendo girare la testa per davvero, starò bene. Anche a me. Cioè, che facciamo? Non muore, forse. Ho mangiato un'altra mela. Sta arrivando, cara. No, mi sta uccidendo. No. Uh. C'hai fatta? Sì. C'hai fatta? Sì. Torno, torno, torno. Uh. Ok, ok. Uh. Uh. Ho capito che sono le sedie a rotelle. stavo andando dalla parte opposta, arrivo, scusa. Mi è tutto chiaro, Fere. Cos'è successo? Adesso mi riposo. Ah. Almeno solo una qualcosa. Porca miseria. Ma dimmi te. Questa qua così. Io te l'avevo detto. Tu ci credevi pure a questa storia finta. C'è con una sperla che ti fa ballare dall'altra parte della mappa, ti mette la nausea, non vedi più. Ti toglieva quanto? Cinque cuori a botta? Cinque cuori a botta. E poi ci ha ingannato fin dall'inizio per farci andare qua. No, te l'avevo ingannato. E tu mi hai seguito. Vabbè, perché appunto se non saresti morto. Vabbè. Allora, c'è qualcos'altro da scoprire qui, secondo te? Beh, non credo, Fere. Dici? Cioè, la pressure plate era la trappola per attacarci. Ok. E non credo ci sia altro. Quindi è risolto così il mistero di Momo? E penso. Quindi, allora, abbiamo capito che Momo è una bugiarda truffatrice eppure falsa. Eh, a sto punto non so come darti torto, Fere. Cioè, non vedo passaggi segreti o altro, ma perché ci dovrebbero essere? D'altro ne sembrava proprio chiaramente una trappola e quindi mi sa che è andata così. Eh, ma qual era il nostro regalo, Stef? Scusami, all'inizio ho parlato di un regalo e io ancora me lo ricordo. Dov'è? Forse era Momo il regalo. No. No? A questo punto, Fere, non ci resta che controllare la soffitta, no? Eh, Togliamoci il dubbio. Ovviamente. Togliamoci il dente. Allora, aspetta. Tu per primo. Ok. Secondo me non mi fido, Stef, aspetta che me la mangio una pure io. Secondo me non si sa mai come possono andare le cose. Fere, mi è scomparso tutto. Ok. Sono rimaste queste luci un po' inquietanti, però per quanto riguarda il resto sono scomparsi tutti gli armadi, tutti i comodini ed è scomparso Momo. Quindi era tutta una sua maledizione, era tutto un suo, diciamo, come si può dire, tutto un suo piano malefico? Può essere? Non lo so. O forse, avendo ucciso la sua parte cattiva, siamo riusciti a liberare anche quella buona. Cosa fa? Attacca le soffitte al brui questa? Può essere. Magari è il suo hobby. Adesso è andato nella soffitta di un consolino a caso. No, cavolo, non dire queste robe, stef mi sta già prendendo l'ansia pure a me. Devo ci provare. Noi non abbiamo soffitta, quindi siamo sicuri. Ma allora devi dare le cose agli altri, devi mettere l'ansia agli altri, stef. Non lo so, l'importante secondo me è che se ne sia andata, che abbiamo risolto il suo problema, sia che sia stata una bugia la sua storia, sia che sia stata vera. Che non ci chiami al telefono, che non ci scrivi su WhatsApp e noi siamo più che felici. Per sicurezza penso che prenderò tutti i nomi che girano sull'interno e li blocco tutti, tutti i numeri, non si sa mai, stef. Ci può stare. In ogni caso, come sempre, qua sotto compagnia in altri video, iscriviti al canale, cliccate la campanellina e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!